Dunque, una delle ragioni dell'incontro è un confronto tra la dimensione fenomenologica e semiotica, sapendo però che la semiotica ha due teste, una è l'aspetto formale, logico e categoriale e l'altra è la dimensione fenomenologica da cui è stata influenzata, soprattutto attraverso Merleau-Ponty. Ora oggi la discussione sull'abitare porta sulla questione appunto non della costruzione dell'abitato, ma in qualche modo come viene vissuto l'abitato stesso, una prospettiva residenziale più che una prospettiva architettonica. E il problema sono i tipi di significazione che ci dà l'abitare, intendendo per abitare naturalmente non solo la casa, ma la dimora, e intendendo per dimora evidentemente non solo, diciamo così, costruito, ma tutti i tipi di dimora, che non sono soltanto le varietà come, non so, la tenda, il nido, la capanna, ma il modo con cui esse vengono vissute. Nel caso particolare, la ragione del mio interesse è per la psicologia di... che tiene un certo tipo di psicologia ecologica, che tiene conto soprattutto dell'insieme del contesto, del senso largo, cioè del contesto vissuto, quindi l'ambiente, dentro cui, diciamo così, c'è l'atto, i percorsi, i sentimenti dell'abitare. Ecco, da questo punto di vista mi utilizzerò come corpus l'opera di Ghirri, che è un grande fotografo, non solo giustamente degli interni, come si dice, ma di quel vasto spazio dentro cui viviamo e a cui diamo significato. Nel caso particolare si tratta dello spazio esterno, ma soprattutto del grande spazio del cielo. Ci sono, c'è un'esperienza straordinaria di Ghirri, che dopo aver, diciamo, fotografato degli atlanti terrestri ed averli deformati nella prospettiva, ha fotografato il cielo, cioè 365 fotografie, una al giorno, di fotografie del cielo. Ecco, io vorrei soprattutto soffernarmi su quelle fotografie che sono in cui il cielo è soltanto un riquadro blu, tentando di definire, da questo punto di vista, il blu del cielo come una specie di un fenomeno, come si potrebbe dire, una fenomenologia senza fenomeno.